Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno a voi, buongiorno. E il tuo nome? Mi chiamo Federico Lauri, ho 23 anni e vengo da Anzio, Roma. E la tua modella? Si chiama Lisa. È un incontro sulla nave? Sì, ci siamo conosciuti sulla nave, cercavo questo ideale qua e l'ho trovato. Ah, cercavo proprio questo ideale di donna. Sì, sì, proprio questo qua. E come l'hai convinta di venire a giocare con noi? È stato difficile perché parlava inglese e io piano piano, 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 piano ci sono riuscito. Bravo, anche se parla inglese è stato più difficile e tu non ci sei riuscito. Tre, quattro parole messe insieme. Dici, dimmi qualcosa della scelta dell'acconciatura, poi ti passo a Roberto. Allora, io mi sono nella scelta dell'acconciatura perché rispecchia molto il mio stile, nel senso è un'acconciatura un po' romantica. Posso vederla dietro? Come no? Cioè, nel senso perché io adoro le cose molto pulite, non mi piacciono quelle acconciature troppo spettinate. Mi piace una cosa chic, però nello stesso tempo non troppo impostata, perché è un po' il mio stile che mi piace a me. Quindi ho preferito fare questa cosa qua. Effettivamente è chic e anche non è troppo strutturata, impostata, ha una texture dietro che materica. Sì. Raccontaci perché dovremmo sceglierti. Se dovete scegliermi, perché vabbè, è una cosa che rispecchia molto il mio modo di essere, nel senso mi piace molto vestirmi, adoro tutto ciò che è la moda, tutto ciò che è il costruire, il personaggio. Perché io sono proprio così, quindi mi piace anche quando, non so, vado in qualsiasi parte, mi piace curare dai capelli al vestito, magari... Quindi è proprio una cosa che rispecchia proprio la mia personalità fare questa cosa, indipendentemente da comunque il premio che ci sia o non ci sia, però è una cosa che mi piace proprio. Sono sicuro che mi piace... Perché appartiene ad una passione. Appartiene ad una passione, sì. Facci due nomi di uno stilista che non riusciresti mai a vestire personalmente per te e di uno che invece veramente ti piace. Allora, uno che non riuscirei mai a mettere è un... Forse un Armani, perché è troppo classico, mi piace più John Gagliano, Dior, qualcosa di bello carico. E nella tua donna invece? La donna che ne potresti mai vestire? La mia donna piace Roberto Cavalli, è il mio stile preferito, una femminilità con le sedi... Sì, per sempre. Ho capito. E l'ultimo? Un'icona, Audrey Hepburn e Marilyn Monroe, loro sono le dive degli anni 50. Io ho un'ultima domanda da farti. Per questa modella, se all'improvviso ti venisse chiesto per varie esigenze di cambiarle immediatamente l'immagine, ma intendo proprio come tagliare questi capelli a lei per la proporzione del suo viso e se vuoi aggiungere anche eventualmente un cambio colore. Allora, io non taglierei i capelli a lei corti, secondo me, perché lei ha un viso... ha leggermente la parte qui del viso un pochettino allungata e secondo me tagliarli corto metterebbe troppo risalto questa parte... la parte del viso un pochettino così allungata. Manterrei sempre il capello lungo, magari gli darei un pochettino più di morbidezza. Non troppo qui quanto sotto, un pochettino di morbidezza. E al massimo il colore... mi piace molto perché comunque è la base naturale. Questa è la sua base naturale e ha dei colpi di sole. al massimo farei questo effetto che va un pochino adesso, un pochettino più scuro sopra, leggermente più chiaro sotto, ma nella gradualità molto delicata, niente di troppo evidente, perché lei è molto naturale così. E manterresti i toni freddi che troviamo. I toni freddi sicuramente. Sì, perché lei è proprio fredda, quindi... secondo me sì. Io vedo nella tua immagine molta contemporaneità e devo dire che tu hai una bella immagine. Grazie. Invece nell'immagine della tua modella vedo una classicità eccessiva rispetto alla tua immagine. Allora io ti chiedo, se io ti dicessi l'abito mi piace, è un classico pettinoire, no? Ma la pettinatura rendimela un pochino più vicino alle tue corde? Cioè questa è di maniera... Io le ho già viste tante volte, non mi... Dimmi cosa potresti fare, sempre mantenendo questa idea di pulizia che ti guida. Sì. Ma per mettere il graffio della contemporaneità che rispetta... Che rispetta di più il tuo look. Sono d'accordo con Maria Grazia. Sì. Vedo anch'io esattamente quello che dici. Tu sei frizzante, uno ti guarda e spremi un sacco di energie, di positività e tutto il resto. Con lei sei stato molto severa. Un po' con i miei gusti. Però con lei vedo che manca un pochettino quello che brilla. Qualcosa di più vicino al mio stile, forse. Sì. Lo troviamo. Sì. Sì. È una scelta più vicino. Sì. Il sparkle, quello che brilla in lei. C'è qualcosa un po' troppo opaco. Troppo, sì. Forse, secondo me... Quanti anni hai? 23. 23. Quella conciatura, potevi farlo, con le tue mani di uno di 23 anni, con le tue teste di 23 anni, le forme sì, ma usare un po' di più di tirare fuori il carattere del carattere di 23 anni, come fra uno di 23 anni. Di avere un pochettino più coraggio, non adesso, però... Ah, ok. Ah, scusatemi. Sì, sì. Ah, ok. Di usare un po' di più, di usare la tua gioventù, la tua giovinezza. Forse magari sulla parte davanti, perché a me l'idea di questo chignon così pulito, dietro mi piace perché lo vedo molto più vicino anche al vestito. Magari la parte davanti l'avrei... Guarda, la parte davanti, anche se comunque c'è una certa verticalità, ad esempio, per renderla più, se accettate la definizione cattiva, righi in mezzo, lucida, piatta e tutto questo gran volume che c'è dietro, per esempio. Sì, sicuramente sarebbe... Perché da te questo ci può stare. Sì, accetto volentieri il vostro consiglio. Però sei così stiloso che l'intervista ci è piaciuta comunque. Grazie, grazie mille. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.